Sindaco, l'avete chiamata, l'avete definita Operazione Verità. Si parla di grandi opere a Chieti e di incompiute lasciate dalla precedente amministrazione di centrodestra. Sì, come avevamo detto anche in campagna elettorale, al momento del nostro insediamento avevamo due obiettivi principali e urgenti da risolvere. Il debito, ovviamente la situazione economica che andavamo a gestire e soprattutto il portare avanti e a termine le opere, diciamo, stranamente incompiute della precedente amministrazione. E queste opere sono tante. La nostra squadra farà di tutto per portarle a termine nel più breve tempo possibile, nonostante le nostre difficoltà finanziarie, attingendo ai fondi europei. Ripeto, quello che dico sempre, che la nostra giunta, i nostri assessori fanno una grande squadra e un grazie sentito al dottor Rispoli, assessore ai lavori pubblici, che con vera abnegazione sta lavorando insieme con gli uffici competenti per risolvere e portare a compimento queste opere che ridaranno lustro alla nostra città. Tante opere che vengono messe in risalto in base alle interrogazioni che il consigliere Colantonio mensilmente mi fa come assessore ai lavori pubblici. Le tante opere che a partire dal Palazzo d'Achille, a partire dal tunnel, a partire da tutti i progetti che riguardavano gli interventi sulle SUS, a partire dalle opere che sono abbandonate per quanto riguarda le frane di Via Mando negli Angeli e per quanto riguarda il Tete Center, tutte opere che noi appena siamo entrati abbiamo cercato di capire il proprio cronoprogramma e lo stato di avanzamento per poter dare una risposta e accelerare tutti i lavori programmati. Il tunnel diciamo che siamo a buon punto, nel senso che mancano le ultime migliorie. Secondo me dopo Pasqua potremo riaprire questo tunnel, il fermo da 11 anni e così finalmente la città può usufruire di questa opera fondamentale per la mobilità.